Hong Kong, lo dicevamo è scaduto ormai da 20 minuti l'ultimatum che i manifestanti hanno lanciato al presidente del governo locale, Leung Chung Ying, e allora ne parliamo subito con un ospite, come vi anticipavo, Alberto Forchielli, presidente dell'osservatorio Asia, collegato con noi da Bologna. Benvenuto. Grazie. Senta, io le chiedo di commentare subito quanto ci riferiva il nostro inviato Claudio Pagliara, forse l'ha ascoltato insieme a noi, ovvero un'apertura da parte del governo locale di Hong Kong, perché proprio alla mezzanotte è arrivato un comunicato che apre al dialogo con i rappresentanti dei manifestanti. Come crede che vada interpretato questo gesto? Un inganno. Normale. Anche Tiananmen li chiamarono a parlare, poi tre giorni dopo li hanno ammazzati tutti. È normale. Prima, l'ha detto anche lei, hanno chiesto di fare entrare delle ambulanze, poi in realtà dentro c'era materiale semi-militare. Un inganno. Quei ragazzi non hanno nessuna possibilità di farcela. Ecco, lei l'ha già citato, Piazza Tiananmen, perché in questi giorni i commentatori naturalmente a vedere la folla in queste strade, in queste piazze, il rimando è subito ai carri armadi di Piazza Tiananmen. Allora, cosa crede che ci sia di simile, se c'è qualcosa di simile, a quella protesta simbolo di 25 anni fa con quella di oggi? Beh, in questo caso diciamo che i cinesi, il governo cinese ha pienamente ragione, ossia Hong Kong è territorio cinese, è una piccola cosa, il governo cinese ha un miliardo e 400 milioni di cinesi da tenere insieme, non può certo permettere a Hong Kong di autovotarsi, di rendersi di fatto indipendente, è una cosa inconcepibile, anche perché i cinesi della madre patria vedono gli Hong Kongini come un popolo viziato e privilegiato, quindi non godono di nessuna simpatia popolare. E si immagini lei se da Pechino lasciano che questi ragazzi possano eleggersi chi gli pare, è una cosa assolutamente fuori da ogni possibilità reale. Senta, ricordiamolo quello che chiedono, che Pechino non interferisca nelle votazioni del 2017, che non metta mano alla scelta di questa ristretta rosa di candidati per la sostituzione dell'attuale governatore, ma ci può spiegare perché è così importante la riforma del sistema elettorale per questi giovani? Ah, certo, perché loro vorrebbero poter eleggere chi credono sia meglio per il bene di Hong Kong, quindi vorrebbero elezioni libere, invece la Cina vorrebbe che fosse eletto un qualcuno che fa gli interessi della Cina, che non sono necessariamente gli interessi della gente di Hong Kong, anche perché dietro c'è tutto un problema sociale, perché in questi ultimi 15 anni dall'indipendenza i ricchi cinesi sono andati a braccetto col governo, hanno fatto un sacco di soldi, poi invece la gente comune ha perso e sta molto peggio, c'è stata una grande divaricazione del reddito, nessuno si è preoccupato del benessere dei cittadini di Hong Kong, la grande borghesia di Hong Kong si è preoccupata ad andare in Cina a fare soldi, ma nessuno ha preso a cuore il bene del paese, i ragazzi lo sanno. I ragazzi ora ci stanno provando, lei ce l'ha già detto, non crede che possano farcela, però c'è anche da dire che i giovani, i giovanissimi, l'abbiamo visto in questi giorni, il leader a 17 anni, Joshua Wong, hanno portato in piazza solo ieri, giorno della festa della Repubblica Popolare Cinese, oltre 500 mila persone, dove crede che sia il carisma di questi ragazzi? Come riescono, come stanno riuscendo fino là e se in qualche modo possono riuscire a convincere ancora più genitori, nonni, insomma i grandi? Dunque, i grandi sono, tutti a Hong Kong sono d'accordo di avere la democrazia, però siccome tutti sanno che la democrazia equivale a perdere la pagnotta e quindi tutti sono d'accordo, alla fine i genitori di quei ragazzi vogliono la pagnotta e poca democrazia, questi sono ragazzi idealisti, ma diciamo i genitori non e gli zii non ne vogliono sapere di sta roba qui, pagnotta, basta lavorare, poi dopo dei diritti civili, della democrazia se ne parlerà, ma se ci fosse un referendum non vincerebbe mai, questa è la verità. Il grande problema di questa roba qui è che la Cina in un momento che voleva mostrare al mondo un modello cinese, un soft power cinese, qui naturalmente fa vedere un sistema non bello. Poi soprattutto vorrebbero integrare Taiwan, si immagina lei i ragazzi di Taiwan che vedono sta roba qui, ma mai, capito? Ma mai, capito? A questo punto l'integrazione con Taiwan si ferma. Quindi è comunque un dramma per la Cina, è un dramma per la Cina questo. Quelli cercano di dire è meglio il modello cinese, è meglio l'occidentale, capirai. Ma chi lo vai a spiegare adesso, capito? Vedremo, vedremo come... Voglio vedere Lichie Jan quando viene a Roma il 15 ottobre. Come andrà avanti questa manifestazione. Grazie Alberto Forchielli. Grazie a tutti.